Salve, buongiorno, buonasera a tutti i miei amici, alla mia famiglia in Italia. Io sono Akasha Anne-Marie e oggi, il 6 di luglio, ho deciso di fare questo video in pubblico per presentarmi di ciò che faccio perché sono venuta qui in questo mondo e che lo voglio condividere con voi. Come vedete già dal mio filtro ho scelto la multidimensionalità, cioè di essere ricollegati alla nostra multidimensionalità. Com'è successo a me? Io sono venuta in questo mondo già come un essere totalmente completo, nel senso che avevo la memoria abbastanza chiara, fin da piccolina, di non appartenere a questo mondo, e penso che alcuni di voi hanno delle esperienze simili da quando siete piccoli, da quando siete venuti in questo mondo, che vi siete sentiti dei alieni. E ora, non voglio entrare nell'argomento degli alieni, di tutte queste storie che girano nella rete, che vengono discussi avanti e indietro. Ovviamente, tutto esiste e tutto ha un diritto di esistere. Io voglio fare parte, insieme a voi, di questa nuova generazione che siamo noi, che hanno la memoria e la riconnessione attraverso la nostra DNA, che siamo esseri, che veniamo dal cosmo, dalla nostra galassia e da altre galassie, da altri universi. Per questo continuerete a vedere tutte queste bollicine, che, simultaneamente, esistono su altri piani dimensionali e su altre frequenze. Allora, io ho aumentato realmente le mie frequenze, cioè il mio campo vibrazionale, misurabile attraverso le unità bovissime, che potete cercare su Google tutte le informazioni. Dopo un percorso lungo, personale e spirituale, ho avuto la grande gioia di riconnettermi alle mie origini, cioè alla mia famiglia galattica. E attraverso questa mia riconnessione, che è accaduto praticamente nell'arco del 2004, fino ad oggi, mi è stato regalato un dono molto particolare. Dopo aver incontrato anche fisicamente delle persone che altrettanto non sono di qui. Sì, sono degli extraterrestri che mi hanno contattato, che si sono materializzati in diverse forme nella casa in cui vivevo allora mi è stato regalato un linguaggio, un linguaggio di luce che io ho definito Cosmic Galactic Codes, perché non è soltanto un linguaggio, sono dei codici, dei suoni e delle lingue che comunque vi dico già adesso che non saranno mai traducibili in nessuna lingua che voi conoscete in questo mondo. Perché è una lingua molto, molto antica, anzi, non è una lingua, sono delle frequenze, dei codici, dei suoni, dei linguaggi che sono connessi a diversi sistemi galattici, cosmici, universali. E queste frequenze sono altissime e attraverso me viene canalizzato questa lingua di luce e a voi può risuonare dentro il vostro cuore, dentro la vostra anima, la memoria da cui a quale venite veramente. ho già registrato diversi codici e li potete vedere su questo mio canale e siete invitati ad ascoltarli e vi posso dire già adesso ascoltateli con il cuore aperto e anche con una mente aperta perché ovviamente una mente chiusa vuole capire da dove vuole capire il linguaggio vuole capire i codici è inutile non lo potete capire mai attraverso il vostro cervello umano perché è limitato voi dovete andare oltre oltre il vostro cervello umano in effetti ascoltando questi codici può provocare in voi il risveglio il risveglio del vostro essere multidimensionale che può essere un risveglio molto dolce come può essere anche un risveglio un po' brusco su questo io non posso darvi nessuna spiegazione o neanche sono responsabile perché voi siete richiesti a diventare responsabili per voi stessi come vediamo in questi tempi che tutto sta crollando collassando in sé perché il vecchio paradigma realmente sta per andare a fumo come si dice e più che mai attraverso il nostro sole centrale l'alchione e il nostro sole vengono scaricati giorno dopo giorno sempre più energia fotonica raggi gamma che ci aprono e che ci portano in una coscienza e consapevolezza più ampia più avanzata il risveglio spirituale sta accadendo realmente e ha iniziato nel 2012 su questo comunque farò un altro video o audio intanto mi volevo presentare e qual è l'intento di questo video è di invitarmi a far conoscere questi codici questo Cosmic Galactic Codes e se siete interessati a fare un incontro con me via Skype e prenotare una seduta perché siete realmente interessati a riconnettervi alle vostre famiglie e la vostra famiglia galattica non esitate di contattarmi questi codici hanno la facoltà di entrare dentro di voi a livello delle vostre cellule a livello molecolare a livello atomare e a livello dei particelli subatomiche perché sono delle frequenze che comunicano con le vostre cellule e quindi più che mai non è necessario di poterlo capire con la mente umana perché come vi ripeto non c'è nessuna mente umana che possa capire e percepire questi codici questo linguaggio intanto lascio a voi di poter scegliere in questo mio canale che è un po' fra l'altro mixato in tedesco perché io sono nata in Germania e parlo anche l'inglese quindi ci sono anche alcune cose ho diversi bloc in lingua italiana in lingua inglese e in lingua tedesca e quindi c'è un po' un miscuglio di tutto già parliamo tutti quanti una lingua universale che è quella del cuore e mi auguro che potete fare delle bellissime esperienze ascoltando a questi miei codici o cioè i codici che io canalizzo e sono io che canalizzo cioè i miei aspetti superiori come vedete ne ho tanti ne ho tanti infiniti e quindi sono curiosa di sentire i vostri commenti o di ricevere i vostri e-mail intanto vi ringrazio di cuore di avermi ascoltato con i vostri cuori e vi auguro ancora una bella giornata una bella serata una buona notte a presto ciao a presto Grazie a tutti.